Scusate, sono arrivato adesso in caduta libera, nel senso che io stavo in alto, molto, molto in alto, non ci pensavo nemmeno, sì, io stavo in alto insieme ad altre persone, manco da molto tempo, da più di mezzo secolo che manco. Scusate, sono arrivato adesso. Ecco cosa sono in fondo le operette, fiabe amorali, ma sempre fiabe, dunque ci sono principi e ceneretole, ma tutti sono passati dall'anticamera del piacere, il mitico Bau Tabaret. Scusate, sono arrivato adesso. 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 La fai innamorar, la tua vestita come una regina, sia pur graziosa la tua figurina, in altri cuori sai conquistare. La valigina a innamorar, nella ria di Parigi c'è tanto freddo. La valigina a innamorar, nella ria di Parigi c'è tanto freddo. La valigina a innamorar, nella ria di Parigi c'è tanto freddo. La valigina a innamorar, nella ria di Parigi c'è tanto freddo. La valigina a innamorar, nella ria di Parigi c'è tanto freddo. La valigina a innamorar, nella ria di Parigi c'è tanto freddo. Grazie.